Tanto saluto a tutti, sono Tafnall Snowangel, 14 dicembre 2022. Questo documento ufficiale, Snowangel Bulldogs, tutta la storia della persecuzione degli elevatori da parte di Martin Luther King. Queste sono le condizioni reali dell'assistenza domiciliare Lucescu Dawson Harrison, vedete? Guardate, questo è un computer, loro stanno tutti i giorni, io da 15 maggio 2022 stacco corrente elettrica tutte le volte che vado a fare i bisogni. Invece questo è un computer, hanno musica 24 ore su 24, adesso l'ho tolta perché ho fatto il video con la musica e mi è uscito il copyright. Ora hanno musica 24 ore su 24 nel telefonino, più due fari dritto, mezzo occhi, vedete? Quello è il mio sito internet, c'ha due fari dritto, mezzo occhi, due fari dritto, mezzo occhi 24 ore su 24. Vedete? Adesso ho tolto musica perché prima ho fatto musica e mi ha dato il copyright, guardate. Sentite? Capito? Questo è il documento ufficiale dell'assistenza Lucescu Dawson Harrison a Milano in via Tremiti 6. Guardate in che condizioni sono, dal 15 maggio stacco corrente tutte le volte che vado in bagno, 24 ore su 24 c'hanno musica nel telefonino, più due fari dritto, mezzo occhi, sempre 24 ore su 24. Tanto saluto tutti, questo è il documento ufficiale di Michele Abbondandolo del 14 dicembre 2022. Grazie a tutti.